Buongiorno a tutti, mi scuso già in anticipo se ho i capelli bagnati, però purtroppo mi ritrovo sempre a dover registrare video in condizioni e orari completamente fuori controllo, però purtroppo devo fare così. Per chi non lo sapesse, ho deciso per 30 giorni di fare un video al giorno per recuperare la monetizzazione, perché non tutti lo sapranno, ma non pubblicando video per un anno e mezzo, YouTube ha deciso di togliermi la monetizzazione, quindi ho piacere di recuperarla, perché sto facendo praticamente video totalmente gratis. E sto facendo appunto video a quest'ora qua semplicemente perché finisco di lavorare durante il giorno, dopo ho calcio perché gioco in seconda categoria e ho 2-3 allenamenti settimane, quindi mi ritrovo alle 11.30 di un lunedì sera a dover registrare i video. Mi chiedete nei video se investo anche in azioni italiane e oggi andiamo a vedere due aziende di cui una ho già nel portafoglio e l'altra che sto iniziando a pensare di investirci. Ovviamente le posizioni sulle azioni italiane non ce le ho sul portafoglio pubblico di YouTube perché il mio broker, appunto quello che utilizzo per YouTube, non permette di investire su Borsa Italiana. La prima azione di cui ho piacere di parlarvi è Azimut Holdings. Penso la conoscete tutti, ma per chi non la conoscesse è un'azienda italiana tra le più capitalizzate di Borsa Italiana, infatti capitalizza 3 miliardi e mezzo. E sostanzialmente è un'azienda che si occupa di gestione patrimoniale. Infatti guardate qua quanti asset in miliardi ha in gestione e sta fondata nel 1990 e ha 223.000 clienti in Italia e non. Infatti per chi non sapesse Azimut opera in 18 paesi. Ovviamente la maggior parte dei ricavi ce li ha in Italia e tramite clienti e fondi italiani. Azimut fornisce gestione patrimoniale quindi semplicemente voi date in affidamento dei vostri soldi che vengono investiti tramite dei fondi appunto di Azimut. Poi successivamente anche dei prodotti assicurativi e anche la possibilità di aprire dei fondi pensioni da loro. Tra l'altro se avete piacere che io vi faccia un video sui fondi pensioni fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché mio padre è commercialista e io lavoro in questo settore qua. Quindi se avete piacere magari potrei farci un video un po' più approfondito perché non so se tutti lo sapete però i fondi pensione possono essere dedotti in dichiarazione dei redditi. Quindi è una cosa che potrebbe essere utile un po' a tutti. Andiamo a vedere molto brevemente qual è la situazione grafica di Azimut negli ultimi 5 anni. Azimut sostanzialmente negli ultimi 5 anni ha praticamente sempre lateralizzato. Poi nell'ultimo anno ma soprattutto negli ultimi mesi da ottobre ha praticamente avuto un upside del 65% un po' come tutto il mercato italiano ed europeo. Personalmente non me la sento di cavalcare questo trend qua semplicemente perché nonostante abbia una buona valutazione come tendenzialmente non investo quando il mercato sta crollando a picco. Semplicemente perché non mi va di cercare di prendere un coltello che cade tendenzialmente aspetterei che la situazione si stabilizzi un attimo. Quindi non cavalcare questo trend qua aspetterei magari qualche ritracciamento. Penso che un buon punto di ingresso potrebbe essere intorno a questi valori qua intorno ai 17 dollari perché potrebbe tra virgolette rimbalzare in prossimità di questa che era la resistenza che poi è diventata supporto intorno a febbraio e anche a febbraio 2021. Un sito molto utile che non so se tutti conoscete tra l'altro non mi sta sponsorizzando però ci tengo a farvelo conoscere comunque è Simply Wall Street perché secondo me aiuta a prima occhiata a sapere se un'azienda ha dei buoni valori. Come potete vedere se noi andiamo a vedere il financial health di Azimut possiamo vedere come nello short term il current asset coprono tranquillamente le current liabilities mentre per quanto riguarda il long term coprono anche. Infatti la situazione debt to equity si è ristabilita dopo il 2020 che è stato un anno un po' disastroso per tutti. Per quanto riguarda i dividendi possiamo vedere come attualmente Azimut rilascia un dividendo intorno al 5,73% appunto di dividend yield. E se noi andiamo a vedere la crescita storica possiamo vedere che dal 2012 che erano all'incirca 25 centesimi e andiamo a vedere quello che ha rilasciato nell'ultimo trimestre otteniamo praticamente un per 6 in 10 anni quindi molto molto bene come crescita di dividendo. Anche il payout ratio è molto buono infatti ha un payout ratio del 30% quindi perfetto. Se noi invece andiamo a vedere la valutazione in termini di multipli di Azimut andiamo a vedere quella che secondo me è il vero punto forte di questa azienda. Infatti avrà un price earnings di 5.4 che sono valutazioni insensate se le paragoniamo al mercato americano però dovete pensare che anche l'Italia ha un rischio paese completamente differente rispetto agli USA quindi è anche giusto che sia così. Tra l'altro mi sono appena accorto che non c'era la luce accesa quindi probabilmente ora mi vedete un pelo meglio. Attualmente Simpli Wall Street ci dà un fair value intorno ai 32 dollari quindi una sottovalutazione del 29% che può essere sensata. Se noi andiamo a vederla in relazione a quella di Alpha Spread andiamo a vedere la valutazione anche qua vediamo una sottovalutazione del 18%. Personalmente mi fido e non di queste valutazioni qua però penso anch'io che sia abbastanza sottovalutata. Sinceramente come vi dicevo prima penso sia meglio entrare intorno ai 17€ che era il target che avevo prefissato io anche perché se voi considerate il dividend yield su 17€ o su 23 cambia e tanto. Quindi personalmente penso che se dovesse tornare intorno ai 17€ che sono valutazioni che avevo qualche mese fa potrei pensare di entrarci. Prima di parlarvi della seconda azienda ci tengo a ringraziare tantissimo lo sponsor di questo video qua che è AAAFX che è un broker greco ovviamente regolamentato secondo le normative greche ed europee che permette di investire sul lungo termine tramite azioni sia reali sia CFD permette anche di fare trading sia forex sia appunto tramite CFD quindi utilizzando le azioni e cosa importantissima permette anche di tradare le crypto. e la cosa che trovo veramente molto molto carina che tantissimi broker non hanno è il fatto che se voi andate nella sezione depositi avete la possibilità sia di prelevare sia di depositare in tantissimi metodi con tra l'altro tariffe pressoché intorno allo zero infatti avete la possibilità di depositare tramite carte sia prepagate sia di credito con tassi allo zero avete la possibilità di depositare tramite bitcoin tramite bonifico ovviamente con tempistiche diverse anche assurdo avete la possibilità di depositare tramite scril e altri provider e payments che tendenzialmente nell'Europa occidentale non si vedono tantissimo ma nell'Europa orientale perché la Grecia è anche più vicina al Medio Oriente e all'Asia in generale quindi ci sono anche provider di pagamento cinesi altra cosa molto molto interessante è il fatto che il conto è multivaluta cosa che tendenzialmente non tutti i broker soprattutto quelli nuovi hanno infatti 3212 che è il broker che utilizzo io per il pubblico per il portafoglio pubblico non ce l'ha quindi personalmente ve lo consiglio molto qua potete vedere quali sono gli spread che la piattaforma applica sui vari trade qua sta parlando dello spread sul forex e di conseguenza ma tra l'altro magari vi lascio tutto il link in descrizione per consultare le commissioni secondo me ne vale la pena anche aprire solo un conto demo per provare l'applicazione che tra l'altro c'è anche mobile e poi magari fatemi sapere ci tengo ancora a ringraziarli detto questo torniamo alla seconda azienda la seconda azienda e qua penso ovviamente che la conoscete tutti è Intesa San Paolo qua sono molto molto contento perché non l'ho mai detto però adesso devo andare a rivedere la data ma son sicuro che io dissi a mio padre di investire in Intesa che ovviamente penso la conoscete tutti ma è il gruppo bancario più grande italiano ed è stata l'unione fra la banca Intesa e la banca San Paolo se non ricordo male nel 2020 hanno anche acquisito UbiBanca eccolo qua se non ricordo male io dissi a mio padre di investire in Intesa se non ricordo male quando era 1,70 euro dovrebbe essere secondo me intorno al 2020 e considerando che se noi avessimo investito qua avremmo ottenuto una performance del 38% in due anni voi dovete anche considerare che attualmente Intesa San Paolo ha un dividend yield del 10% che è folle è folle noi avremmo ottenuto praticamente una performance del 38% di capital gain e all'incirca di un altro 30% di dividend yield che ditemi voi con un S&P 500 che fa praticamente un... beh se noi contiamo dal 2020 penso abbia ottenuto una performance allora andiamo a calcolarci un attimo giusto per capire se noi consideriamo dal novembre 2020 l'S&P 500 ha anche avuto una performance molto positiva se non ricordo male però sicuramente non la performance che ha ottenuto Intesa San Paolo ma questo ne sono sicuro quasi al 100% se noi andiamo a considerare anche il dividend yield se noi andiamo a prendere... allora qua diciamo novembre 2020 se noi andiamo a prendere il novembre 2020 l'S&P 500 ha avuto una performance del 12% noi se avessimo investito in Intesa San Paolo e tra virgolette io lo tramite Pineco il conto di mio padre l'ho fatto abbiamo avuto una performance praticamente del 70% contro un 20% dell'S&P 500 quindi molto molto bene tornando all'Intesa San Paolo sicuramente Intesa ha avuto un bel rialzo da luglio del 2022 perché come tutto il mercato europeo ha avuto un grande ribalzo infatti ha fatto il 42% in praticamente sei mesi buttatelo via io me lo prendo molto volentieri andiamo un po' a vedere quali sono le valutazioni dei multipli e le stime di crescita per Intesa perché? Allora partiamo dalla crescita gli utili di Intesa sono attesi in crescita del 16% anno per i prossimi tre anni quindi un ritmo molto elevato e se noi andiamo a considerare quella che è la valutazione attuale di Intesa possiamo capire il perché tendenzialmente ve la consiglio attualmente Intesa ha un PE intorno a 12% che se noi lo consideriamo in relazione con i competitor vediamo che a parte Fineco ha un price earnings più elevato rispetto a tutti se noi andiamo a vedere però il price earnings forward quello che quindi tiene conto dell'utile operazione dell'anno successivo andiamo a vedere che qua la situazione cambia leggermente infatti Intesa ha un price earnings di 8% considerando gli utili del prossimo anno e se noi andiamo a considerare un dividendo del 9% che tra l'altro non è manco tassato doppiamente come i dividendi americani perché penso lo sapete tutti ma i dividendi americani sono tassati sia in America sia in Italia quindi avremo solo un'imposta del 26% sul dividendo diciamo che me la prendo molto molto volentieri come possiamo vedere a parte il 2020 quando la BCE chiese alle banche italiane e in generale europee di sospendere la distribuzione dei dividendi ha praticamente sempre avuto un dividendo in crescita dal 2013 al 2023 quindi negli ultimi 10 anni ha praticamente sempre avuto un dividendo in crescita una cosa che mi fa impazzire d'intesa è il CEO che è Carlo Messina che tra l'altro se non conoscete vi consiglio di andare a vedere qualche video e qualche sua conferenza perché è un piacere sentirlo parlare è stato tra l'altro anche insegnante di economia degli intermediari finanziari alla LUIS di Roma che è una delle università italiane più importanti se dovessi proprio dire un punto in cui forse entrerei in intesa direi che potrebbe essere qua intorno ai 1,90 barra 2 euro quindi dai valori attuali praticamente un meno 15% detto questo fatemi sapere se conoscete qualche altra azienda italiana che dovrei considerare per magari qualche altro video spero che il video sia stato di vostro gradimento detto questo ci lasciamo e ci vediamo al prossimo video